Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Carlos Alcaraz. Vi chiedo di presentarvi prima di fare la domanda e iniziamo dal canale. Ciao Charlie, benvenuto. Andrea Colella, Juventus TV. Io ti chiedo, sei qui da una settimana, però hai già avuto modo di vedere i tuoi compagni, conoscerli, allenarti e anche di esordire. Quindi ti chiedo un po' le emozioni di questi primi giorni. Grazie. Hola, que tal a todos? Buongiorno, come state? Beh, sì, sono qui da una settimana, è vero, sono molto contento, sto bene. Sono già con il gruppo, mi sto allenando, il gruppo mi ha ricevuto molto bene. Davvero sono stati, anche tutto il gruppo dei tecnici, tutto il gruppo mi ha accolto veramente bene. Ciao Giovanni Guardalasca e Sport. Noi nel Southampton ti abbiamo visto giocare praticamente in tutti i ruoli, o quasi, insomma, centrocampo, centrale, mezzala, attaccante a destra, punta centrale. Nel modo di giocare della Juventus, qual è il ruolo che ti si addice di più, che è più comodo per te? Sì, è vero, gioco bene in centrocampo, ma anche da falso nove, e qui adesso sto giocando più sulla parte interna, sulla fascia destra, e mi sento bene, devo dire, perché quando ero più piccolo giocavo sia a destra che a sinistra. E comunque mi piace molto questa, la posizione a destra, e sono disposto a giocare sia in questa posizione, sia in qualsiasi altra che il mister mi indichi, dove sia necessario. Ciao, buon pomeriggio. Giovanni Albanese, Sport Italia. Siccome sei stato paragonato a tanti giocatori, ti chiedo se c'è qualcuno a cui ti ispiri. Grazie. Sì, sono contento che mi abbiano associato a grandi campioni che sono passati di qui, è veramente una bellissima cosa. Certo, io quello che so è che devo fare bene, e voglio che il mio nome venga segnato a fuoco qui nella squadra della Juve. E' certo che Cristiano Ronaldo è stata un po' la mia ispirazione principale, soprattutto da più giovane. Oggi voglio dimostrare alla mia famiglia che il sogno che avevo da bambino può diventare davvero reale, ed è quello che sta succedendo. E questa è l'ispirazione che ho ogni mattina quando mi alzo, e che metterò prima di iniziare qualunque partita. Voglio davvero dimostrare alla mia famiglia che tutto quello che sto ottenendo, in gran parte, è grazie a loro. Ciao Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. Hai detto che sceglievi sempre la Juventus alla Playstation, allora io volevo chiederti da dove arriva questa tua passione per la Juventus e perché l'hai scelta. Sì, è vero. Sceglievo sempre la Juve perché sono passati di qua grandissimi giocatori, grandi nomi, e quindi era una bella possibilità perché scegliendo la Juve potevo scegliere i migliori giocatori. Ed era certo un punto di vantaggio che potevo vantare rispetto agli amici con cui giocavo. Se sceglievo la Juve, diciamo che se non me la lasciavano scegliere mi arrabbiavo o non giocavo proprio del tutto. Sì, signora Mia Calciognuso, la Carlos, è una domanda molto molto veloce. Ti hanno paragonato, qualcuno ha fatto una comparazione con Vidal. Ecco, ti senti orgoglioso di questo paragone oppure tu pensi di essere diverso da questo giocatore? Grazie. Come dicevo, sono davvero contento per questi confronti perché mi hanno associato a dei grandi giocatori. So che Arturo è stato un grandissimo giocatore che qui ha raggiunto ottimi risultati, qui alla Juve, e sono quindi molto molto contento per essere stato associato a lui. È ovvio che quello che devo fare io è fare le cose bene per come sono fatto io, per il giocatore che sono io. Io farò il meglio che posso cercando di arrivare ai migliori risultati con questa squadra. Questo è il proposito che mi sto ponendo. Ripeto, sono davvero grato che mi abbiano paragonato a Vidal, ma adesso devo pensare soprattutto a me stesso. Ciao Alessandra D'Angiora, Esport. Volevo chiederti cosa ti colpiva della Juventus vista da fuori e cosa invece ti ha colpito di più della Juventus vista da vicino in queste tue prime giornate. La Juve mi è sempre piaciuta perché è un club grande per, come dicevo, tutti i giocatori migliori che sono passati di qua, incluso moltissimi giocatori argentini. Quindi mi è sempre attratto soprattutto per questo. Adesso che ci sono dentro mi rendo conto che le aspettative sono molto alte e sono sicuramente disposto a compierle, a seguirle. Ed è uno dei miei obiettivi, assolutamente. È una delle cose più belle che mi siano successe. E quando sono arrivato mi sono proprio reso conto che giocare qui richiede grandissime aspettative, ma sono pronto e predisposto. Ciao Carlos, benvenuto. Simone Indovino, Mola TV. Volevo chiederti, hai iniziato il tuo percorso calcistico nel racing, sei passato in Inghilterra e adesso sei in Italia. In cosa le tue esperienze che hai avuto in questi due campionati molto difficili possono aiutarti all'interno del campionato italiano? Grazie. Il racing è stato sicuramente un debutto importante, è un grande club argentino, quindi sono contento di essere passato da lì. Poi il passaggio in Inghilterra, diciamo che sia al racing che in Inghilterra, ho potuto giocare con grandissimi nomi, grandi giocatori e grandi persone, dalle quali ho imparato davvero tantissimo e ho anche potuto fare una crescita, un cambiamento a livello fisico. Adesso sono potuto arrivare a un grande campionato e una grande squadra davvero preparato, perché ho lavorato molto, anche al Southampton ho lavorato bene, ma fin dal racing ho lavorato tanto perché so che quando entri in squadra del genere la tua vita cambia e sono davvero, mi sento pronto, diciamo. Come ho detto, so che qui le esigenze, le aspettative sono alte e sono contento di provare.